Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia. È aperta la cucina. Si accommere. Prego. Grazie. Dottore, lei non mangia proprio niente? Eh? No, no. I nani sono sette. Buonasera. Piccoli. So che la cucina è chiusa, magari è una cosa fredda. Quello che trovate... Guardi, qua è tutto buonissimo, scelga lei. Qualcosa di leggero. Bene, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto, intriso, impanato, altrimenti pesce. Pesce, pesce. Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato, intriso, unto al gran marnier, altrimenti un salmone magro. Un salmone, molto gentile. Contorno? C'è anche il contorno. Eh, certamente. Abbiamo funghi fritti, 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 oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamosa, o... Non ci sarebbe un'isalatina leggera, leggera. Se no, niente.